Un'attività di macelleria con tutte le necessarie attrezzature ma senza le relative autorizzazioni che si sarebbe svolta in una baracca abusiva in località Bordonaro Superiore nel comune di Messina. A scoprirla sono stati i finanzieri del comando provinciale insieme ai veterinari e agli ispettori tecnici della prevenzione dell'ASP peloritana con un blitz in un'area retrostante e un'abitazione dove in una baracca di circa 30 metri quadri totalmente abusiva sarebbe stata esercitata l'attività di macelleria in totale assenza di ogni tipo di autorizzazione e ispregio ad ogni norma igienico-sanitaria. Secondo quanto emerge dalle indagini il locale sarebbe stato dotato di tutti gli attrezzi di una regolare macelleria banchina acciaio, ceppilegno, lavatoio, macchine per insaccati, affettatrice, coltelli di varie misure, mannaie, bilancia, cella frigo in funzione ed apposito preziario per i clienti. Trovate anche pezzature di carne bovina e suina ed insaccati appesi secondo i finanzieri pronte alla vendita. L'immobile è realizzato in mattoni forati, parzialmente intonacato con coperture in pannelli coibentati, poggianti su una struttura in ferro, fornito di alimentazione elettrica con relativo quadro interruttori e pavimentato all'interno con piastrelle, mentre i muri perimetrali sono risultati rifiniti all'interno. Segnalato alla Procura della Repubblica di Messina, il responsabile è sequestrato l'immobile. I finanzieri hanno contestato le relative violazioni amministrative in materia di abusivismo commerciale e igiene pubblica, unitamente al personale dell'ASP di Messina è intervenuto. Al gestore dell'esercizio, totalmente sprovvisto dei requisiti sulla sicurezza alimentare e igienico-sanitarie del locale, è stata applicata una sanzione amministrativa di circa 6.000 euro, per non conformità, inadeguatezza e mancanza di scia di alimentare, a cui si aggiunge il provvedimento di sospensione attività e di vendita degli alimenti. Il Tribunale di Messina ha convalidato il sequestro del manufatto abusivo eseguito dai finanzieri in via d'urgenza, disponendo nel sequestro preventivo.